Un bilancio sicuramente positivo, soprattutto per la consapevolezza che negli ultimi anni si è avuta. Un 2013 positivo dal punto di vista ambientale. È il bilancio tracciato questa mattina a Piazzola sul Brent durante un convegno organizzato dalla Regione per fare il punto in fatto di difesa dell'ambiente in Veneto. L'azione che la Regione porta avanti è quella di valorizzare un territorio, dalle sue risorse naturali a un sistema di gestione delle stesse, che guardano poi alla capacità attrattiva di un Veneto che ha proprio nel turismo la sua principale attività imprenditoriale che vuole appunto essere attrattivo proprio anche per la valorizzazione dalla montagna al mare, delle sue bellezze naturali e soprattutto anche delle qualità di queste bellezze. Tra le bellezze anche i boschi, custodi del suolo, che 620 uomini del servizio forestale regionale si occupano quotidianamente di gestire e tutelare. Sono 620 persone che vivono e abitano nei luoghi dove lavorano, quindi con una conoscenza specifica dell'ambito dove operano, con un amore verso le cose che fanno proprio perché sanno che fare bene quella briglia 200 metri sopra vuol dire salvare la propria casa.